Un incendio è da segnalare che c'è stato proprio ieri 15 giugno 2022 il famoso impianto rifiuti di Managrotta ubicato proprio a Roma capitale d'Italia. In pratica cosa è successo? C'è stato questo incendio abbastanza palese, abbastanza visibile dell'impianto dei rifiuti proprio della discarica di Managrotta il quale ha creato una densa nube di fumo di colore nero. In fiamme è andato un gassificatore e ovviamente le fiamme si sono propagate sempre di più. La nube era palese, era visibile anche a decine di chilometri di distanza e gli abitanti di Roma e soprattutto della zona di Managrotta hanno potuto vedere e assistere a questo fumo nero. con il tanto di incendio che si è propagato in zona in loco. Insomma è stata una situazione abbastanza brutta, l'odore era piuttosto forte, acre, visibile e evidente per quanto riguarda l'incendio di Vigili, 15 giugno 2022. Il video termina qua, iscrivetevi al canale Narratore Italiano, commentate, faremo sapere cosa ne pensate e un contatto è solo a voi. A prossimo video!